Non so se riesci, ne va troppo Marta. Perché acquistare da Gucci o da altri brand di lusso quando ormai sapete benissimo che è arrivato online il nuovo merchandising di Croatomist. Stiamo parlando della seconda edizione con una nuovissima colorazione e un nuovissimo design. Vi lascio il link in descrizione e vi ricordo di taggarmi su Instagram non appena riceverete i prodotti così che potrò condividere tutte le vostre stories. Adesso è arrivato però il momento di flexare con stile. Link in descrizione. Ammazzato qui è muerto! Giù, 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 giù. Vieni da me, vieni da me, guarda cosa aiuto. Mamma mia. Ho anche le splash. Vieni, 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 vieni. La bomba legge in aria. Dai ti avrò qua la porta. Non importa, divieni da me. 40 kill, 40 kill. Ti faccio la scala pure, vai. Ok. No, 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 no. Prendi i cavolfiori. Sto girando io. L'ho hitato anch'io, l'ho hitato. Me ne vado di impulso io. Non ho scelta, non ho scelta, mi hanno hitato, me ne ho fatto male. Eh, appunto. Io ho fatto 100 blu anch'io però. Ok. Poi ci ficchiamo qua dentro. Ci prendiamo tutte. Eh no. Tutte nulla, non c'è nulla. C'è gente sotto che pusha, gente sotto che pusha. Dall'auto shield. Morto. Vieni da me. Eh, 87 gli ho fatto. Dai. GG. Ti prendo il pompa. Ero senza materiali, senza niente. Ma ti stai zitto, non mi fai, non mi fai mai n'ansia. Psst, psst. Corri come un bambu, babbuino in calore. Di p***a. Oh mio Dio, mamma mia come sono in calore. Sono loro, sono loro, sono loro. Lo so. Prendo un favas. Trotto? Morto uno. 50 blu. 142 morti. Mamma mia, troppo forte. Mamma mia, ccccc. Non potrò fare nulla Senza parole Sette team da me Dani dice che devo pagare io due Andiamo all'helicopter Ah ti saluta Tesla Non è vero io non le credo Ma c'è gene qua o no? Ah si c'è gene qua Per piccolarlo mi sono preso una botta Hai cura? C'è l'amico Peperoncini Sopra però dovrebbe esserci del loot Andiamo Medici Ma scusa l'amico di questo? Ah eccolo l'amico di questo In qua figlio dei fiori 86 Mamma mia 30 Bianco Ah no A saperlo veramente lo picconavo anche io Tanto sono in mezzo a picconare oggi Oh Allora tu ti è morto Ok Aspetta 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 Come ti vengo a raccontare una storia Allora tu che guarda il dash Pos Quiste che ti piace Allora uno lo spaccavo con un iscritto proprio Sto curando Sei tu che gli splasci Guarda questi quante splasci hanno Ma tu li stai sentendo ma Non ci credo Meno male che questo 101 101 101 101 Ok Meno male che sembrano in binoba Non ci credo Arrivano da Ok Da sopra già Mamma mia C'è della gente qui sopra Paddano paddano Tanto c'è gente che sta paddando 35 Pensi che c'è gente dietro di noi Ma perché ti devo pushare alle spalle Mi credevo pro player e pro player Eh sì Cioè poi dici È one shot Io non capisco una cosa Tu sei qui da me ma No io sono che devo andarmene Sono morta se no Devo fare un chug Sei da solo Mi ha fatto 2000 Psycho sniper Sono quasi Allora l'amico lo spaccato Arriva Non ci credo mai nella vita Dai però Stai alessandro Stai alessandro Ma sono in due su di me Ah il tuo lo vedo Te l'ho finito Ok Io sono morta Io vengo da te No no Sono da te Ah E sotto da noi c'è uno Eh sì Vabbè dai Ok Ho ammazzato quello che era sotto i da Io c'avevo pure no Siamo a 2v1 Non ho poro di nessuno C'hanno 4 Chillo un secondo Sì 104 a lui Lo so devo farmi un chug Vai vai Mi ha invitato di fare il chug Non so se riesce Ne va troppo Sono morto Belli materiali Io farmirei BAM Senza materiali Senza niente Quando ti ho visto in volo Ho detto Ma la lasera Ma che mi deve laserare Comunque Un HP Allora Quando ti stavo restando Io ho detto Allora Sei furbo Tirare RPG Nell'unico punto dove lo può tirare L'ha tirato Uno di vita Però ero tranquilla Perché sapevo che rimanevo con uno Perché ho fatto il calcolo dello shield E tutto Però ho detto Se muoio Ho tilto Sapeva quell'oro Morivo Però quello viola No Sì 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 Sì